e ce ne andiamo. A point, poco prima dell'ingresso addirittura, è sempre in vantaggio free time, davanti ad Arabesco, rimbomba ed ortocapi, i cavalli entrano addirittura, con free time in vantaggio lungo la corda, davanti ad Arabesco, sciussi a centro pista, ortocapi, con più all'esterno, non me lo ricordo, ed a point, è sempre in vantaggio free time, Davanti a ortocapi, a point, a centro pista, non me lo ricordo, e Baruffa conduce free time, attaccato a centro pista, ad a point, è in vantaggio free time, davanti ad a point, non me lo ricordo, e Khartoum. Si è salvato Stefano, free time, da un capo all'altro, Maurizietto Vargiù, 25 contro 1, a te la linea. Sì, sì, siamo qua, ci ha provato a point nel finale, perché i 66 kg sono tanti, ma non è riuscito nell'aggancio conclusivo, diciamo.